Dopo Pietrelcina siamo a Montefusco, benvenuti a Montefusco, provincia di Avellino, qui nel Sagno, in pieno Sagno, e Montefusco è un convento dei frati minori Cappuccini dove vi è la testimonianza della presenza di Padre Pio da Pietrelcina, uno dei conventi dove Padre Pio è vissuto, anche se per breve tempo. Difatti in questo convento di Sant'Eligio, Padre Pio arrivò nel novembre del 1908. Nel mese successivo, cioè nel dicembre del 1908, Padre Pio riceve gli ordini minori, così come si diceva in quel tempo a Benevento, poi viene ordinato su diacono e successivamente poi nell'agosto del 1910 Padre Pio sarà ordinato sacerdote. Padre Pio è rimasto qui praticamente da novembre 1908 a circa metà maggio 1909 quando per motivi di salute dovete andare a Pietrelcina per respirare aria natia. Qui c'è la cellula che potete venire a visitare e c'è tutto il convento dove ancora oggi i nostri frati vivono la spiritualità francescana, la spiritualità di accoglienza. Monte Fusco poi è anche nota e famosa per la beata Teresa Manganiello, una beata canonizzata qualche tempo fa. Bene, dopo Pietrelcina, dopo il tempo della novena che ci ha preparato alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina, noi riprendiamo il nostro percorso in continuità anche se bisogna cercare i collegamenti in continuità con il cammino già fatto a Pietrelcina. Ormai chi ci segue da anni sa che alla ripresa dopo la pausa estiva i nostri passi tornano sempre a Pietrelcina appunto per accompagnare tutti i devoti di San Pio durante la novena di preparazione alla festa liturgica ma anche ci si trattiene poi per qualche altro giorno. Dicevo dovremmo un po' tornare a riprendere il filo che abbiamo interrotto prima dell'estate in cui abbiamo fatto un discorso, abbiamo fatto delle puntate per aiutarci a guarire la mente e il cuore. Devo dirvi che gli argomenti trattati hanno solleticato l'interesse di tanti, di fatti anche durante l'estate sono continuate ad arrivare i mail sugli argomenti trattati, anche incontrando persone di qua e di là siamo stati così fermati per aiutarci a capire meglio come guarire la mente, come guarire il cuore. Un argomento che tocca veramente la vita di tanti perché molti, tanti oggi abbiamo il cuore malato non in senso proprio diciamo medico ma il cuore malato in senso spirituale, soffriamo di sclerocardia diceva Papa Francesco, abbiamo la mente malata perché la mente influisce sul cuore e quando dico mente malata non intendo i malati di mente ma proprio i pensieri come abbiamo visto nelle puntate prima della pausa estiva, i pensieri che ci aiutano a vivere bene o i pensieri che ci rendono la vita poco serena e che quindi vanno necessariamente guariti. Guarire il cuore, guarire la mente per vivere nella pienezza della propria vita e per vivere nella pienezza della propria spiritualità. Vi aspetto domani sempre da Montefusco insieme con Dritto al Cuore. Ciao a tutti!